Nel modo provo a notti? Non lo so, non lo so Eh, perchè poi se fa freddo Non è... perchè non è neanche vicino che tu dici vieni a casa Cioè se poi ti prende freddo, ti prende freddo Ti prende freddo andare a tù Eh, dico, arrivi la Eh, vedete, ti è molto capito No, ti è tutta la tuffa, quello Tutto grosso Però qualche... L'altro giorno faceva caldo, l'aria subito Sì, sì Sì Quest'oggi andiamo a buttare giù due... Due roveri Vicino al campo dove avete visto la ratura Che danno fastidio sul confine Dovevamo andare su In alto a buttare giù i faggi ma C'è molto freddo E quindi abbiamo optato per Un altro posto Bene, adesso prendiamo il same E il rimorchio Allora, io volevo vedere Perché uno di voi mi ha detto che Qua sul same C'è un termo avviatore Che non ho capito se intendeva Proprio un termo avviatore oppure Un... Il semplice cicchetto Che gli diamo Adesso Mi ha detto che si trova un collettore d'aspirazione Però io non ho mai saputo niente Di questo Allora vediamo Che qui non c'è niente Sì L'unico Termo avviatore che conosco è Questo qua Che è il cicchetto Troppo eh No, gliel'ho dato una volta Poi l'ho fatto andare un po' Perché poi... E poi gliel'ho dato di nuovo Perché poi se... Si, si, lo so Fa più fatica No, gliel'ho dato Per... Il trattore lo spengo 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 Ma le tagli tutte queste? E ogni ben di Dio Ma le ha tolta lui la rete? Sì 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 Questo cosa faccio? Sì 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 qui mettevamo la meliga. Ah la meliga. Fare una o due strisce di meliga sarebbe carino. Ma poi ci sono le berbe che te la mando. Oh che dubale vero. Io pensavo solo i cinghiali fossero il problema. I cinghiali. Tra l'altro adesso non se ne vede neanche più. C'è uno grosso. È sempre il solito. Morirà prima o poi. Quanto vività ha un cinghiale? Secondo te. Più di dieci. Più di sei. Possibile che non ci arriva nessuno ma solo. No volevo andare a scaricare. Perché adesso ci tocca. Volevo tirarla di qua. Quello. Sì. No? Sì. Però devi staccare il trattore. Deve scaricare questa. Sì sì. Ma te la tiri te per i cavoli tuoi? Dico senza il... Sì. Vedi come si va? Eh già io quella che era ben so mia capace. Allora c'hai una gasa. Io faccio la gasa più sei volta. Sì. Più in alto. Sì. E poi tiri dentro la gasa e poi... E poi lì com'è che lo tieni fermo? come qua. Tu. Tieni fermo così. Madonna. Lo passi così. Eh sì. Troppo più. Eh sì. Senza i... Questi sono tuoi, né? Sì ma ho preso l'undici ma sono troppo grossi. a meno di dieci. Che chissà chi è. Deze. Qua scuuga è? Ah no. Sì. No. No. Sì. No. 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 Vado giù dritto? Sì, sì, vai tra qui. Sì, ho capito, ma questa strada a me fa sempre un po' paura. Giro, giro di qui. Non mi ricordavo picchiasse così. Vado sempre di qua? Sì, stai qua. Sì, stai qua. Sì, stai qua. Sì, stai qua. Non va indietro, c'è una seppa. Beh, fai ad andare indietro dritto così. Ancora un po'. Questa, questa, questa. Vai. Vai. Cerco la roba che è. Lo sco un po'? Non è che la roba che è. Non è che la roba che è. Non è che la roba che è. giù, non è che la roba che è. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Era grossa eh raga, più che altro aveva tanti rami. Adesso qua abbiamo la discatura da fare, passa qua, ci spiana la terra. Una terra perfetta eh, nonostante le zolle e tutto, adesso è in una temperatura, vedete spiana perfetta, è una temperatura che un'umidità perfetta sarebbe da discare, peccato che Landini è dal meccanico. Ma qua abbiamo lasciato giù qualcosa ma, no dicevo, sarebbe da discare, viene polvere, ma Landini è dal meccanico. Grazie a tutti. 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 Emma, stava venuto, è venuto Lascialo lì, lascialo lì, è presente No, volevo girarlo E' la stessa, lascialo lì E' il tuo occhio, poi è il grumo Andiamo a fare portare via quella là Poi veniamo giù Guardiamo l'ora che è Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto Adesso andiamo a scaricare il secondo rimorchio di ramaglie E poi il lavoro è terminato In prossimi giorni il nonno andrà a prendere la seconda pianta che abbiamo buttato giù Bene, come sempre vi invito a lasciare un mi piace A iscrivervi, attivare la campanella Andare a vedere tutti gli altri video che ho fatto sul canale Vi chiedo scusa se è passato molto tempo dall'ultimo video Ma vi posso annunciare che da qui a pochi giorni cominceranno di nuovo i video Bene, detto questo, Linea Studio Ciao Ciao